Io dal corso dal vivo mi sono messo in gioco sin da subito perché volevo proprio svoltare questa mia situazione e ho trovato una persona che mi ha saputo aiutare con degli esercizi validi, mi hai messo comunque a mio agio e mi hai guidato nel correggere gli errori strada facendo, cioè sei stato capace nel farmi vedere quali erano gli errori e anche comunque quando sono andati ad approcciare nella rinascente, cioè mi hai comunque dato quella carica che mi serviva, mi hai fatto vedere che è possibile. Poi se lei non ci sta sono casi suoi ma comunque io posso farlo, capito? Cioè io voglio essere questa persona che crede di più in me stesso, che credo di più nelle mie facoltà di poter conoscere nuove persone e nuove ragazze, cioè non necessariamente mi ci devo finanziare. Ma questo è la situazione, però a livello del corso il feedback mio è positivo e ne faccio un altro perché ho visto che con questo primo mi sono sbloccato ad un tot. Però da qua quando voglio fare il secondo voglio fare molta più pratica per poi ottenere dei risultati migliori. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.